Il nucleo Cerchio Blu è da sempre impegnato come psicologi della protezione civile a gestire il benessere psicologico del personale di emergenza come anche del cittadino normale di fronte alle emergenze. In quest'anno il nucleo Cerchio Blu è impegnato anche per la campagna Io non rischio, una campagna volta a informare i cittadini e ad essere la prima linea di difesa in caso di calamità naturale o disastro o emergenza. Conoscere i rischi sul proprio territorio è molto importante perché aiuta a sopravvivere a situazioni di emergenza. Nel caso della Toscana il rischio alluvionale è uno dei rischi più importanti. Noi di Cerchio Blu, da sempre impegnati negli ambiti dell'emergenza, ci impegniamo in questo momento a darvi dei pochi chiari consigli per poter agire al meglio di fronte a un alluvione. Primo, rimani informato, scarica l'app cittadino informato sul tuo cellulare, ti darà notifiche da parte del comune, di residenza e della provincia, nonché della regione. Due, vai sempre a piedi, non prendere la macchina, evita di prendere la macchina in una situazione di alluvione. Tre, cerca di andare in alto se puoi, non andare in basso, vai verso l'alto se sei in una casa, non andare in semi-interrato, sali su ai piani superiori. Quattro, una volta che la situazione si è tranquillizzata, rimani in casa, rimani in casa fino a quando la situazione si tranquillizza e le autorità non ti dicono che puoi uscire, non uscire di casa e rimani in casa. Cinque, quando la situazione si è tranquillizzata e sei rimasto in casa e sei in una posizione elevata, sei ai piani superiori, non bere l'acqua del rubinetto, potrebbe essere contaminata. Se vuoi ulteriori informazioni vai sul sito www.ionorrischio.it Qui potrai trovare materiali e ulteriori informazioni che ti possono aiutare te e le persone che ti sono care a poter sopravvivere o comunque agire meglio durante un rischio idrogeologico, una calamità, un disastro naturale o altro. Sul sito puoi trovare vari materiali, tra cui appunto il pdf di questa brochure, che in modo chiaro e molto semplice potrà darti indicazioni su cosa fare. Grazie a tutti.